buona giornata sul nostro canale associazione paese delle donne oggi ospitiamo beatrice pisa beatrice pisa è una femminista e una docente ha insegnato per anni alla facoltà di scienze politiche la sapienza storia delle donne storia dell'integrazione europea storia contemporanea questa è un passaggio importante perché quello che presentiamo oggi è l'ultimo dei suoi molti libri che si chiama le parlamentari italiane nella realtà comunitaria 1979-1985 che ha una prefazione di piero graglia una prefazione non comune perché il libro intanto salutiamo la nostra ospite beatrice pisa il nostro buongiorno a tutte ea tutti il libro compare nella collana dei biblione edizioni dedicata agli studi e gli approfondimenti sull'origine dello sviluppo delle scienze politiche e sociali applicati in una logica interdisciplinare e nella stessa prefazione di piero graglia questa collana diretta anche da marco cursi e marcia rossi in questa prefazione viene sottolineato proprio il valore di questo libro che appunto apre dei mondi parla delle euro parlamentari italiane tra l'altro ce ne fa anche conoscere sotto un profilo nuovo profilo diverso molto più realistico anche nelle loro lotte nelle loro comunità nelle loro fare rete e dall'altra parte fa entrare il mondo questo è una caratteristica interdisciplinare e ma soprattutto uno sguardo una visione che viene sia dalla visione femminista sia dalla visione di chi appunto ha dedicato la vita a materie come queste e quindi la prima cosa che chiediamo a Beatrice Pisa e da dove nasce questo libro perché c'è stata l'esigenza di scriverlo allora di nuovo buongiorno a tutti e a tutti grazie Maria Paola per l'invito allora da dove nasce questo libro eh beh io sono stata alla cattedra di storia contemporanea per anni e anni quando si cominciò a parlare in integrazione europea io lo trovai un argomento assolutamente affascinante e quindi mi ci sono concentrata poi ho cominciato a fare i seminari gli esami poi mi hanno dato eh l'insegnamento storia delle donne eh storia dell'integrazione europea veramente l'ho chiesto io perché lo trovavo estremamente interessante allora perché è interessante perché mi sono concentrata su questi primi anni allora questa 1979 è la data in cui per la prima volta i cittadini europei vanno a votare per eleggere gli europarlamentari perché prima non erano eletti erano nominati dai vari governi quindi è una svolta assolutamente importante e che porta delle conseguenze enormi innanzitutto ci sono due eh due fatti fondamentali la prima che la prima presidente del Parlamento europeo letto è una donna è Simone Veil la francese Simone Veil il secondo che entrano nel Parlamento europeo una finalmente una non è poi enorme ma insomma una quantità di donne di rilievo ecco una percentuale di quante donne perché undici sono le italiane esatto prima ce n'era credo soltanto uno o due nelle sì erano erano pochissime infatti erano pochissime ehm il le le in tutto le sessantanove eh su quattrocentodieci seggi costituiscono il sedici virgola otto per cento voi mi direte non è questa cifra fantastica no però pensate che in quell'epoca in Italia c'erano l'otto per cento di donne in Grecia addirittura il quattro per cento solamente al nord in Danimarca dobbiamo arrivare per arrivare al ventitré per cento quindi insomma è una importante questo significa che il suffraggio universale nel suffraggio della cittadinanza per portare i propri rappresentanti e le proprie rappresentanti la società civile è stata più avanti e che non eh i parlamenti nazionali insomma ha portato alla rappresentanza un numero più elevato eh di donne come sono le componenti di queste? Allora prima di parlarti delle componenti che pure interessante insomma figurati quanto mi ci sono interessata vorrei dire che io propongo anche una riflessione sul Parlamento europeo in questo testo perché io mi sento dire in continuazione che ci vai a fare a votare per le elezioni europee tanto il Parlamento europeo non conta nulla questa è una cosa che si sente no abitualmente ah certo allora non è più vero non è più vero perché negli anni il Parlamento europeo ha acquisito tantissimi poteri fino a diventare codecisionale col Consiglio cioè è come fossero due Camere no come abbiamo noi no senatori e deputati Camera bassa e Camera alta ecco lì c'è il Parlamento da una parte Consiglio europeo dall'altra e nel gioco così si rimandano no eh le decisioni alla fine emergono le leggi che fa l'Europa quindi eh ha un ruolo fondamentale il Parlamento europeo l'epoca eh cui io tratto settantanove ottantaquattro ottantacinque eh ancora il Parlamento europeo praticamente non aveva poteri poteva solamente respingere il bilancio inizialmente però poi tanto il Consiglio europeo aveva l'ultima parola su tutto quindi questa è una cosa che per me ha molta importanza certo in merito a questo c'è una frase del libro ehm che riporta proprio sia il profilo che veniva fatto lo stereotipo che a quei tempi girava della parlamentare europea e quindi una donna tra i quaranta e cinquant'anni sposata con figli con formazione universitaria eh proveniente dall'attività politica o dall'impegno pubblico e privato e eh c'è un'altra frase ancora più eh che colpisce in queste tantissime pagine tutte molto sostanziose ed è il la frase che fa riferimento al coraggio di queste donne che non si sono fermate davanti a niente neanche di fronte al fatto che appunto come tu dicevi eh venisse considerato non dico niente ma poco quello che producevano ecco e questo è un lato importante del libro il fare rete e come hanno potuto farla questa eh rete secondo te per questioni puramente personali per capacità personali oppure perché era il decennio dell'ONU era un sistema diciamo di civiltà diverso di mondo diverso guarda hai nominato il decennio ONU secondo me si pone al centro di tutto del libro ma anche di tutti gli anni ottanta e novanta ha come posso dire ha ispirato ha sollecitato le forze eh ha aiutato ha fatto capire a tutti che c'era un nodo fondamentale di di cui occuparsi che erano le donne quindi questo è stato un qualcosa di fondamentale infatti loro chiedono sempre di poter partecipare per esempio l'ultima conferenza del trienno dell'ottantacinque ma lo sai che faticano perché non ce le vogliono mandare e allora io mi sono chiesta ma perché non ce le vogliono mandare o comunque se ce le mandano non devono parlare di politica è abbastanza incredibile no questo tenerli al guinzaglio questa necessità di tenere al guinzaglio invece ehm volevo aggiungere se è possibile che a proposito del Parlamento europeo di cui io sono una fan come avrai capito io non avrei scritto un libro come questo suppongo ho scritto anche un'altra cosa no no voglio dire eh una cosa su cui io rifletto da tanto tempo lo seguo e allora l'anno scorso il Parlamento europeo ha tirato fuori una risoluzione in cui si condanna la decisione della Corte Suprema americana di eliminare la famosa sentenza Roe Wade con cui era possibile abortire in tutti in tutta la federazione americana per cui poi dopo infatti tantissimi stati appena hanno potuto hanno tolto l'aborto e quindi il Parlamento europeo si è pronunciato contro la sentenza e ehm ha chiesto qualche cosa di veramente rivoluzionario cioè che eh il diritto il diritto di aborto sia inserito nella carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e guarda che è una cosa perché nessuno parla di diritto d'aborto il Parlamento europeo è una parte certo poi la risoluzione che come ti dicevo non è sufficiente a fare diventare una con valore di legge perché poi deve avere l'assenso del Consiglio e il Consiglio è molto conservatore invece no? Eh questo è uno dei passaggi importanti eh per chi voglia leggere questo bel libro le europeo le euro parlamentari italiane nella realtà comunitaria perché eh il titolo come dire svaga un pochettino nel senso che tutte queste pagine sono una ricostruzione puntualissima non solo delle presenze femminili dentro il Parlamento europeo ma appunto di quello che hanno fatto e non solo che hanno fatto all'interno ma hanno fatto anche all'esterno l'immagine che hanno data i passaggi in avanti che hanno prodotto anche fuori dal rigore istituzionale o dal rigore legislativo ostante che appunto come si diceva ehm tutti questi poteri decisionali eh non ce l'aveva neanche il Parlamento europeo però ehm oltre alle delusioni alle speranze alle nuove iniziative ai profili biografici di queste euro parlamentari ci sono anche dei passaggi interessanti di come le stesse parlamentari per esempio italiane visto che il focus sarebbe questo eh si pongono di fronte alle commissioni ecco eh il vantaglio delle loro appartenenze le pone in posizioni diverse davanti a queste commissioni eh ce ne può descrivere qualcuno di questo dibattito interno eh prettamente esquisitamente etico e politico eh a cui si eh sottopongono eh queste deputate quando diciamo non gli viene nemmeno richiesta questa e questo contributo. Allora il fatto che queste deputate si occupino di cose che non le riguardava diciamo così no? Ma non perché non riguardava il Parlamento proprio non riguardava la comunità europea perché la comunità europea con un progetto funzionalista di stampo economico commerciale e quindi andare a parlare di violenza di mutilazioni genitali femminili eh di famiglia e anche di riassetto istituzionale cioè progetto spinelli tu capisci che era qualche cosa che non c'entrava assolutamente nulla però è un valore aggiunto perché questo eh questa scelta di allargare lo sguardo eh è una proposta è un progetto per l'avvenire vuol dire il Parlamento si deve è l'unica istituzione elettiva l'unica del di tutto l'assetto istituzionale europeo quindi ha diritto di occuparsi di tutto ma è la stessa comunità che si deve aprire a tutto. Ti faccio solo un esempio eh noi grazie all'articolo 119 del trattato CE che si che parla di parità salariale inizia tutto eh il percorso sulla parità sul lavoro delle donne a livello anche istituzionale ma è difficile arrivare alla svolta parità sul lavoro sì ma non solo sul lavoro anche su tutto il resto e alla fine ci si arriva capisci che questo è un andare fuori dai confini oltre quello che eh si era stabilito con il progetto funzionalista che non era spinelliano purtroppo eh l'Unione Europea sì sotto c'ha il grande sogno di spinelli il federalismo eh fantasioso però la realtà è che l'Unione Europea nasce non nasce perché spinelli l'ha voluto nasce perché gli Stati Uniti hanno dato una bella spinta al momento della guerra fredda e hanno detto bisogno di un'Europa forte e unita e quindi c'è questa ambiguità no? Fra il sogno e la realtà e anche questo trovo che sia interessante no? Da da indagare. Certamente. Io scorro velocemente perché avrete capito che un volume è pieno di spunti e pieno di sostanza scorro velocemente l'indice eh perché nei contributi oltre a Beatrice Pisa che poi tra l'altro fa anche una bellissima intervista a Luciana Castellina sulla quale ci soffermiamo fra un momento ehm ci sono contributi di Maria Pia di Donno sulle donne d'Europa dietro le quinte delle elezioni del millenovecentosettantanove che è uno sguardo veramente intrigante intrigante eh di quello che succedeva in realtà eh in questo momento così epocale come quello del settantanove eh poi c'è un altro contributo di Andrea Becherucci sull'esperienza di Fabrizia Baduè Glorioso al Parlamento europeo escono delle figure eh assolutamente poco cioè se sono al Parlamento sono ultranote però poco note poco conosciute diciamo fuori dalle contesti eh del loro partito della loro nazione eh c'è anche un contributo bellissimo di mia Maria Teresa Antonia Morelli sulla religione della libertà l'esperienza di Emma Bonino al Parlamento europeo e su questo parte la figura della Bonino eh ci sono altri passaggi eh di questo libro che dicono che benché fosse una forza assolutamente minoritaria era comunque molto viva molto partecipe e molto presente eh dedichiamo un passaggio di uno degli ultimi di questa presentazione eh scusandoci per la brevità a questa intervista a Luciana Castellina eh che appunto è molto densa molto densa un piccolo riassunto? Beh ehm Luciana Castellina è entrata in lista del Ptup come sappiamo no? Poi non trovava dove mettersi allora si è messa fra i i parlamentari indipendenti eh in cui c'erano anche altre personaggi di rilievo e eh cosa ha fatto? Castellina ha avuto sempre una posizione come posso dire eh in armonia col suo essere del Ptup l'ha portata avanti eh ha fatto molte proposte eh si è collegata e questo lo dicevi prima no? Questo questa capacità di mettersi insieme delle donne di sinistra che è stata particolarmente fatta ad opera di Marisa Rodano però Marisa Rodano è stata veramente una dea ex macchina eh del di questo eh di questa realtà femminile europea pensate che lì c'erano delle undici sono state elette sei comuniste fra cui Nilde Jotti che però se ne è andata subito perché è andata a fare la presidente nel Parlamento italiano e poi c'erano solamente due democristiane nessuna socialista che è una cosa io per me è una cosa che mi ha stupito enormemente cioè questo partito socialista non riesce a esprimere eh una che aveva eppure donne così di rilievo importanti insomma ehm invece queste donne comuniste sono state il nervo il nucleo eh che hanno fatto da collante e hanno portato avanti tantissimi progetti adesso non è che abbiamo il tempo di ma insomma sono nate delle commissioni sui diritti delle donne sono state approvati dei progetti e lei è stata veramente il cuore perché non solo ha pensato alle donne europee ma anche alle donne del terzo mondo perché un altro nodo a cui ho tenuto molto perché mi sono accorta più leggevo più mi rendevo conto che questo interesse per le donne del terzo mondo che è stato avviato e aiutato proprio dal decennio ONU di cui tu parlavi ha avuto un ruolo fondamentale perché ha aiutato la comunità europea ehm ha cercato di avviare delle modalità diverse di rapporti di associazione con i PWS cioè con i paesi in via di sviluppo e questo è enorme no perché sappiamo da un punto di vista economico ma anche politico e culturale di relazione proprio di cambio era stato proprio un momento di cambio di paradigma eh proprio un cambio di linguaggio totale che ha attraversato trasversalmente eh la cultura occidentale per rimanere sempre in casa nostra e e comunque si è avuto delle ricadute ovunque eh da questa parte dall'altra parte del Mediterraneo e dell'Atlantico eh tornando alle pagine interessantissime di questo libro eh c'è eh questo tratto dell'internazionalità cioè dello sguardo appunto sul terzo mondo eh che riguarda questa commissione eh nella quale eh era stata preseduta a scorreggimi se sbaglio dalla Fausta di Sorme eh no allora Fausta di Sorme questo volevo appunto che tu illuminassi perché Donne d'Europa un bollettino di Donne d'Europa diciamo una rivista classica che non manca in nessuna biblioteca perché appunto è un passaggio internazionale di scrittura e di lettura del mondo delle donne nel mondo. Allora Donne d'Europa è stato edito, curato, fatto crescere da Fausta di Sorme che era a capo di un servizio si chiamava servizio informazione donne che era mh all'interno della commissione europea. Ah ecco. Quindi il governo diciamo il governo dell'Europa ehm gestito da questo Scarascia Mugnozza che la chiama espressamente la conosceva ovviamente si rende conto che è una donna estremamente attiva, intelligente, capacissima, pensa che questo ufficio era retto da tre persone e loro erano in collocamento con le donne man mano di tutti i paesi che erano, che entravano nella nella comunità europea e lei edita a questo giornale che non è così comune veramente perché ehm nel 92 quando viene chiuso poi si se ne cancella anche l'eredità, lì c'è una cosa che va ancora esaminata bene. Io adesso sto lavorando su sulla lobby europea delle donne che fra l'altro è qualche cosa che viene in mente proprio a Fausta di Sorme. ehm ma dicevo Fausta di Sorme ha un ruolo fondamentale innanzitutto perché organizza la campagna elettorale, la prima, quella del mila centosettantanove con le varie associazioni femminili. In Italia quella più viace è il CND, il Consiglio Nazionale delle Donne Italiane, ma lei mh al largo al largo raggio coinvolge donne degli altri paesi. Quando per esempio si rospetta all'allergamento alla Spagna, lei fa un un convegno con le spagnole, no? Poi fa un turno per tutta l'Europa. Devo dire che è un veramente geniale questa donna che io ho conosciuto, simpaticissima, disponibilissima, intelligente, morta da poco tra l'altro. Di grandi persone sono così. Sì. Sono solito, sono proprio caratteristiche tipiche di persone molto intelligenti, molto aperte, molto relazionali. Disponibili, la disponibilità, no? Di questa donna. Infatti no, ma questo libro veramente, intanto si consiglia vivamente, come facciamo? Non sempre, però sovente con tanto piacere, alla lettura anche delle scuole, perché è vero che può sembrare una materia lontana, universitaria, ma non lo è affatto e tradotta in linguaggio, come in questo libro, abbastanza semplificato e che si può ancora semplificare di più, può andare tranquillamente all'attenzione di qualsiasi scolaro o scolara a cui la maestra si rivolga o la professoressa o la professora si rivolga con un senso europeista. Ma tanto più, Maria Paola, che c'è l'educazione civica ormai nelle scuole e c'è anche l'educazione civica europea. Appunto. E quindi... Materie di cui si sa pochissimo, per cui è per questo che faccio questo suggerimento, perché appunto qui non si tratta di presentare solo un libro, si tratta di presentare un'istituzione europea, il ruolo delle donne in questa istituzione europea, le ricadute di questo persaggio e le relazioni anche biografiche che hanno tra di loro, insomma, un occhio non certo dalla serratura, ma proprio aperto, di visione a 360 gradi. Io mi scuso perché i tempi sono strettissimi, c'è un qualche passaggio di questo libro che avendolo scritto amerai tutto, che ti sta particolarmente a cuore? Beh, io devo dire che sono rimasta affascinata dall'attivismo e dal ruolo di Marisa Rodano, la quale è vivente, ha più di cento anni, ed è una donna eccezionale che veramente, devo dire, ha fatto la storia. È stata dieci anni, perché lei è stata a realetta dopo, è stata a capo del comitato per, diciamo, promotore degli interessi femminili e in quella veste ha avuto un ruolo fondamentale anche perché ha fatto da tre di gnonco le donne nel terzo mondo. Insomma, io ho apprezzato moltissimo il ruolo di questa donna. A proposito, volevo dire che a proposito della Fabrizia Baduel Glorioso, è stata messa perché lei è stata la prima donna presidente del CESE. Il CESE è il centro di... cioè non ha un potere legislativo, ovviamente, poteva essere solamente consultato, no? Ma suggeriva che cosa? Le progettualità sociali. Quindi aveva un ruolo molto importante e lei è stata presidente. E poi dopo è entrata, veniva chiamato Madame Europe e poi è entrata nel Parlamento Europeo. Ma poi c'è tutti i rapporti con Spinelli che avevano queste donne. Pure questo è interessante. Allora, modificare le istituzioni sì o modificarle no? E qui c'è tutto un discorso, secondo me, molto significativo perché poi non tutte erano d'accordo perché quella era una rivoluzione, no? E quello che si rivoluzionaria o no? Il libro dà conto anche del confronto, dà conto della diversità d'approccio, dà conto delle diversità proprio di finalità anche che però tutte quante poggiano nella buona fede di voler robustire sia le commissioni, sia il Parlamento e sia il ruolo istituzionale e rappresentativo degli uomini e delle donne che compongono il Parlamento Europeo e in questo caso specialmente nutrirlo di presenze femminili superiori al 16%. Insomma, è un'ottima percentuale di fronte al deserto, però è una percentuale che potrebbe anche aumentare anche senza nessun discorso biologista o nessun discorso di quota insomma, proprio per afflato di stima, di riconoscimento di singole persone. Io ringrazio veramente Beatrice, Beatrice Pisa di questo studio approfonditissimo, aspettiamo il prossimo studio che hai annunciato, ecco che sarà altrettanto interessante credo, assolutamente, ricordiamo che questo bel libro edito da Bibion Edizioni ha una prefazione di Piero Graglia ed esce quest'anno in una collana che è diretta da Marco Cuzzi, Piero Graglia e Marzia Rosti, una collana che ci piacerà sicuramente andare a visitare in altre occasioni. Grazie moltissima. Grazie a te, grazie a tutte e tutti. Grazie a tutte e tutti quelli che ci hanno seguito. Arrivederci. Arrivederci.